Ciao ragazzi, benvenuti in questo video di questa pagina nata appena da una settimana. Vi invito sempre a mettere un like a questo canale e ad iscrivervi. Ecco qua con un portafortuna milanista di vecchia data, qualcuno se lo ricorderà. Allora, iniziamo il post partita. Finalmente Zlatan l'ha messa la faccia di tutti quei gufi di merda che stanno atti dai piedi. Zlatan l'ha messa. Peccato che viene annullato il secondo gol che è stato veramente bellissimo, però per giusto fuori gioco. Allora, iniziamo subito col dire che questa volta sarà un caso, ma Suso dov'era? Suso dov'era? Suso non ha giocato, il Milan ha avuto in campo una quadratura, un giropalla molto più fluido. Castileio, come avevo già anticipato, con i piedi non è un fenomeno, ma almeno si impegna, corre, ti fa tutta la fascia, è rapido, avrai i piedi storti. Ma almeno è rapido e su questo è veramente bravo. Primo tempo la squadra, contando che è un assetto nuovo, ha subito un po' il cagliare i primi 15-20 minuti, pian piano ha preso un po' le misure all'avversario. Con le due punti siamo stati anche più pericolosi, più che altro nel secondo tempo. Dove abbiamo potuto vedere innanzitutto un Leao che è ottima prestazione, salta all'uomo, dribbling, dunque senza problemi. Leao dialogava con Ibra, giusto gli ultimi 20 minuti si è un pochino perso, perdendo qualche palla di troppo. Ibra, che cazzo vogliamo dire, Ibra ha tenuto tutti i palloni, non ha perso una palla, sempre vivo, sempre pericoloso, ha fatto anche due o tre dribbling saltando matematicamente, l'uomo è prendendo sempre fallo. Dunque a Zlatan non possiamo dire niente, questa oggi è una prestazione ottima. Ai fine della classifica, una vittoria che serve a poco o nulla, avvicinamento in zona Europa League, nulla di più. Poi prossimamente, domani o dopodomani farò un video parlando in modo più dettagliato del mercato, su perché appunto il Milan si sta muovendo in una determinata direzione. Tornando alla partita, oggi generalmente tutti bene, difesa attenta, a Cagliari concesso poco, Tornando, solita sicurezza, Benasser, prestazione maiuscola, senza ombra di dubbio, e anche diciamo, Cialanoglu sempre sul 6, Cialanoglu è l'unico che non cambiava niente, vabbè. Calabria almeno non ha fatto retro passaggio all'avversario, dunque fortunatamente siamo stati in grado oggi di ottenere una bella vittoria. Il Milan non giocava così bene da tanto tempo, comunque sarà un caso, sarà un caso, ma non ha giocato su uso, abbiamo messo due punte, abbiamo fatto due gol, e hanno segnato le punte. Sarà un caso, ma siamo riusciti ad ottenere con due punte, fuori su uso, la vittoria. Non dicevamo da un mese, e la squadra è tornata alla vittoria. Dunque, ok che noi tifosi magari non siamo degli allenatori fatti e pronti a coverciarlo, però porca puttana, senza quella chiavica di su uso, si è vista almeno che abbiamo giocato in 11 oggi. Dunque, tutto bene, Cassi, primo tempo come al solito, pessimo. Secondo tempo, sempre con i piedi quadrati, ma almeno nel secondo tempo l'abbiamo visto un po' correre, un po' impegnarsi. Dunque, ottima vittoria, senza ombra di dubbio. Ora, i problemi del Milan, raga, un attimo ad esaltarsi non ci vuole niente, ma i problemi del Milan non sono assolutamente cambiati. Questa squadra è da rifondare, sta già cadendo sul mercato. Naturalmente, ripeto, le operazioni Kier, secondo portiere, sono tutte operazioni di sei mesi, perché questa squadra a giugno sono due le cose. Se rimane Elliot, questa squadra viene rifondata totalmente. Se passa la mano, questa squadra verrà ugualmente rifondata. Dunque, tornando alla partita, cambio di modulo, ottime le due punte, ottimo la prestazione un po' di tutti, Ibra, suprema, sì, come al solito. Ora la prossima è Milan-Udinese, dove un'altra vittoria ci avvicinerebbe ulteriormente alla zona Europa League. Dunque, ragazzi, questa disamina, penso che sia tutto su dire su una partita dove il Cagliari comunque è veramente in difficoltà da 3-4 partite, bisogna dire, è una squadra che prende più di due gol a partita, ultimamente il Cagliari. Dunque, comunque, giocare in casa del Cagliari non è mai semplice, a prescindere da un momento di difficoltà della squadra di Maran, non è mai semplice. Sicuramente, ripeto, il campionato del Milan ha poco da esaltarci, però un'ottima vittoria, una prestazione oggi sicura. Bisogna vedere questo 4-4-2 che futuro possa avere. Sta di fatto che su uso il campo non lo devi vedere più. Su uso il campo non lo devi vedere più. Io penso che in questo 4-4-2 pure il Rebic possa tornare utile con me esterno. Dunque, ragazzi, vi ringrazio, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere un like e ci vediamo presto domani per le pagelle post Cagliari-Milan e magari anche per il video dove andremo ad analizzare meglio la situazione del mercato. Un abbraccio e forza Milan. Forza Zlatan! Ciao! Ciao!